lo sa che faccia chissà chi è tutti sanno che si siamo e da quel momento fa chissà dove dappertutto hanno visto l'upe aspetta ma scusami un attimo ma non mi banca perché hai incavato la cassa là dentro perché l'hai incavato ti riconoscono ragazzi andiamo in banca e facciamo vedere chi siamo